Questo lo si dirigerà insieme ai partiti, sicuramente una donna sarebbe molto bella averla, ma io come ho detto sempre, è un po' come l'esempio della lista civica, ho detto sapendo pure che ci sono 16 uomini e 16 donne, può essere che nella mia lista ci saranno magari più donne, ma non perché gli uni sono più gravi degli altri, perché io distingo le persone nell'ambito lavorativo per competenza, esperienza, efficienza e tutto ciò che mette cuore, anima e soprattutto inclusione.